opso vede di 13 free day to treating the game raga mi sto a cagà già sotto c'è anche luigi quei due stanno in alto sinistra valometta l'ha avviato maronna mia che ansia vabbè lui poi devi fare in pratica per sopravvivere o deve scadere il tempo chiami la polizia o con la macchina o con la barca luigi maronna mia che ansia l'ha mannaccia e il ragazzo atti scarica una città il palermo del tutto un po' un po' buon porno a tutti detto questo personaggio baby ah passiamo a partire rapida il stop c'è non non si si trova ci metto un po' c'è altro luigi è uno di noi ma la che ansia sta musica non mi ricordo un tasto eh oh mio dio ecco ahahah uff già se subteggio i brividi il mi senti il corso oltre omo addio no mo scende normale normale metto pronto no però sovino a me non lo vedere così 100 mega ac bravo cd 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 m o perchè va così male vabbè saranno no vabbè sarà così vabbè non fa niente non ho l'ha dato un po' mi ricordo più un caso o io do come il personaggio qua no 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 e difficile a vivi qua no amore cc 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 mi scioprendo io ho la telecamera l'evo perchè così vedete meglio il gameplay capito cc 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 marona mi gesù ti prego c'è cc il killer mamma mia ma cc 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 Devi trovare la benzina e il motore e le chiavi. Lui, se tre cose sono fondamentali per la macchina, così non ci diamo, ce ne diamo, lui. Devi stare a tentare trappole, lui devi stare a tentare trappole. Lui è molto basso. Sì, sì, molto basso. Ma non è colpa nostra, è colpa di chi ha fatto la loma, Ronmi. Non sono io il killer. Luigi, ja, non stai, Luigi, mi sto cagando sotto, lui. Ja, non stai. Maronna mia, uè. Dove stai, lui? Ja, lui, dove stai? Devi chiudere le porte a chiave, te lo dico. Maronna mia, uè. Dove stai, lui? Chiudere le porte a chiave? Eh, cerca di dirmi, a cercare i cassetti, lui. Bello, bello, fusibile, fusibile, veniva, che cosa serve? Una foresta, vai dentro casa! Ma sei cretino! Ma tu dove sei? Eh, io sono, io, li vedi, la vedi la macchina a destra? Eh, io sto vicino alla macchina. Tu sei vicino alla macchina? Non vedi una macchina? Non lo so, lui, perché non ce l'ho la mappa, non mi ricordo un cazzo. No, ancora non l'avevo trovata la mappa. Non so come si corre. Non mi ricordo più un cazzo. Oh, merda. Oh, cacca. Quando senti la musica preoccupante è Jason. Come vi faccio da passare, mi sono dimenticato? Ah, con cerchio, è vero. No. No, non lo so, non lo so. Ui, ti prego, col cittellini, cvizze, ma da troppo si fa se scenderebbe un pochino. No, lì ho paura, eh. Vi vado a questi due vado. Ui! 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 Ha visto là, ha visto là, ma ha visto lui. Ui! Chi ha avuto, ha già trovato, ui! Lui, le chiave ho trovato. Sono in una casa con due di loro. Ho trovato pure la mappa. Ehi, guarda la mappa. Tu dove stai? Maronna mia, ui! Non sto dubbio! Ui! E chi ti ha mollo? No, è qui! Avevo trovato per il motore, lui! Beh, 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 beh. Prendo io il motore. Ma tu vedi, stai da me in una macchina? No, però. Luigi, dove stai? Oh, no! No, ui! Ui! Ma non a me! Ue! 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 Lui! Lui, lo so! Dimmi! Premi touch, vado! Premi touch, vado! Ma stai, ma... Dove stai? Ma stai? stai seguendo un tizio ok ti vedo Luigi mi vedi a me io sto solo io come un babbasone guarda mi hai visto? guarda la mappa, ci dobbiamo incontrare mi vedi che sto solo io mi spaccano una porta è un loco, tu chi stai? ah non so no ma non si tu mi spaccino stai mi spaccano una porta te lo ho detto io sto vicino a 2 mi è entrata una casa lui guarda la mappa Luigi guarda la mappa Luigi ok sei entrata una casa ci lo accetta ok stai stai in alto stai in alto stai verso nord ok guarda la zona di un alcipetardi mi ascolti ok ma la zona di un alcipetardi ma non posso di un alcipetardi un alcipetardi te lo dico allora Luigi ascoltami mi vedi a me sulla mappa si mi vede ok Vieni verso di me, io sto con uno Sto con uno dove sta l'arco Lo vedi l'arco? Eh Sto là, raggiungimi Ti aspetto qua Ma io ti sento Ma sei Jason Ma aspetta ma sei Jason Sei grande, sei un mostro Sei con la maschera Ma allora sei Jason Ma con me non riesci neanche a distinguere Che sei Jason Sei un umano No, beh Luigi Luigi devi ammazzare la gente Non la devi abbracciare Allora eri tu quello che stavi vicino a me Pezzo di merda Come faccio a picchiarmi Non mi ricordo Sì faccio picchiarmi Vabbè sono un po' nabbo Diciamo che sono un po' nabbo Non so come sta manco come si Ah lì però non sapere neanche che sei Con i tasti R2 per afferrare Lì posso dirti una cosa Ma ti sei mai visto venerdì 13? Che sei venerdì 13? A questo gioco No no Hai visto pure il film Non te lo sei mai visto lui Sei serio? Cioè Luigi tu non sai distinguere se sei Jason o no Ma sei serio? No E' uno scherzo Ah lui Ma veramente? Ma questo veramente sta a fa' E poi c'è una donna che mi chiusa Ma che cazzo vuole? Fai a me entrare Puttana Puttana fai a me entrare Lui mi ascolti un attimo Oh c'è una persona la cazza Si piglia e puttana Lui Mi ascolti? No tu mi devi ascoltare Cioè ma tu non sai disconoscere neanche se sei Jason Ma fei schifo Ma è così facile Ma non è tutto Non picchiano Ma no Luigi però Luigi non mi fai urlare Perché sono costruito a levare la live Perché comincio a urlare Mi devi ascoltare quando parlo Ma come faccio a prendere Maronna mia Ascoltami Oh l'ho presa L'ho presa L'ho presa Mi ha coltellato Lui Cioè ma tu non sai riconoscere neanche se eri Jason Non c'è ma fei voi schifo Mamma mia Meno male che ti sei visto a Zebbe Beh dopo questa lato su forte E te vi ho la live su forte Riguarda e ti dovete li trasportare Ok ma io sto combattendo contro il tra Zebbe Però che cazzo Lui non sai neanche distinguere quale è Jason Oh no Vodiscina Ok Otano Ma buoni Ma è una coltella Ma fa un po' E per me E per me Potremmo Non è più 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 Dario senti l'ultima notizia del giorno Lo conosci no Venerdì 13 Sì Luigi non sapeva neanche distinguere se era Jason o i sopravvissuti Pensa io stavo andando incontro pensando che era Che era un sopravvissuto e era Jason Impossibile Così scema Tu ce l'hai A venerdì 13 A venerdì 13 Bisogna la benzina Benzina Oh qua Oh Mica e merda Oh di noi Satizia con la masca Di noi Satizia con la masca Vabbè ma dai Ma penso che tu lo conosci il gioco Penso che ci sai giocare Vaffa no Minza Io c'è scarto Lì sta fancato Lì ma capita se sei mongoloide che non sai riconoscere chi sei Se sei Jason o no Non ti sei mai visto venerdì 13 Ma che vita sociale di merda Ma no ma anche qua che mi lanci i petali Mi provano Mi bottigliano qua Mi bottigliano Mi provano questa una coltella no Ma pazza Mi fate male Mi posso no Come che attivano dove c'è la labbra come c'è la strigliano Dove sei? Basta mori Ah no e lui non ci c'è uno Dopo 50 anni ci l'ho fatto Ciao Luigi Ciao Luigi Sono la donna Scherzo Scherzo Vabbè l'ho di ammazzo C'è l'ho di buttaterra Mance 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 Luigi Luigi mi volevi prendere Luigi mi volevi prendere Ti ho preso Luigi Ma no ma si brutto è Ahiaia Luigi ahia ma come ti permetti Ciao Luigi da edda Oh merda Ahiaiai chita ha morto No ci riuscirono No ci riuscirono Oh bed Non mi troverai mai Non mi troverai mai Ti ammè Sembra Se per casa quando c'è il nuovo E noi i festeggiremo O p.p. posto o chi c'è più domino di merda piccate riguarda la pietra acqua ero piccoglione ma speriamo che non mi trovo a cuore un po' per terra luigi dove stai i già tengo paura ma con luigi di cosa posso aver paura che non so giocare l'idea mi stanno tornando ma vengo pure io e ti trollo ecco di qua vai 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 luigi è qua se pure io sono la torta oh lascia stalla amica mi ciao luigi io sono questa ciao con le frecce oh merda quei curvicini aia è voluto tu ma non si buona ora da regolò ti bullizzano aia digita aia no mi ha ammazzato no mi ha ammazzato mi ha ammazzato dario 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 io ok per te per te per te questioni venivano da me e dal mio flauto no il mio flauto il mio avendo guarda la nera che corre guarda ragazzi io sacco e rimetto la live che me ne vado su fortnite marut gioca su gioco giudice abita pensavo che l'avevano migliorato e mi sbagliavo Luigi però ci stai mettendo 20 minuti stavamo cazzeggiando porca puttana non so quanto costa questo è un esemplare di Luigi che sta morendo st 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 è una chiamata la polizia lì è una chiamata la polizia se ne possono scappare con la polizia la polizia è una chiamata la polizia la polizia Non è vero che mi stanno giù 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 giù, no giù giù giù, giù giù, giù giù Se tu hai fatto un altro, non è vero che non è vero Mi mersa mi mersa Non mi piace io? Ok, non volevo pure la, e poi la... Ristacco, ok però, oh vieni a gioca... Grazie.